Un lavoro per il 41% dei tirocinanti di Lavorando si impara, un progetto organizzato da Confindustria Palermo in parternariato con varienti. L'iniziativa infatti, che aveva come scopo primario quello di avvicinare i giovani laureati in lauree cosiddette deboli, ovvero quelle con maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, al mondo e alle esigenze reali dell'impresa, ha raggiunto anche un obiettivo non previsto all'inizio. Dei giovani partecipanti, infatti, il 41% sarà assunto con varie formule contrattuali da 23 aziende nel breve periodo, mentre il restante 39% sarà inserito a lungo termine qualora l'azienda debba incrementare l'organico. A partecipare all'iniziativa, che prevedeva un tirocino di otto mesi, sono stati così 100 selezionati, 73 donne e 27 uomini, laureati in giurisprudenza, economia, lettere e filosofia, scienze della comunicazione, che hanno svolto attività presso le 75 aziende che hanno dato disponibilità. Il progetto Lavorando si impara, è tempo di fare un po' di conti, un po' il bilancio di com'è andata? Il bilancio è sicuramente positivo, c'è stata un'adesione effettiva dell'87% dei ragazzi che hanno partecipato, qualcuno addirittura so che è rimasto a lavorare presso l'azienda nella quale era stato inserito. Devo ritenere che è stato un progetto formativo ben fatto, per questo volevo approfittare per ringraziare tutti quelli che hanno collaborato alla riuscita di questo progetto.